Buongiorno, Rozo Fuglia è qui oggi a Putignano. Ragazzi avete fatto una bellissima figura col vostro carro, ci dai qualche informazione in merito a quello che avete combinato? È normale che come gentiluomo lascio la parola alle donne. Allora, quest'anno il tema del canevale come sapete sono i 7 vizi capitali, noi abbiamo scelto l'accidia, però abbiamo scelto la musica come rimedio all'accidia. È stato bellissimo vedervi anche ballare con i vostri fan dietro. Grazie, grazie mille. Noi ci abbiamo messo tantissimo impegno, anche se ci viene molto naturale, devo dire. Comunque si vede che è proprio naturale per voi. Stai facendo già il papà o stai già pensando a qualche altra attività? O alla prossima uscita che dovete fare? Anche sì, anche sì. Quando è? Domenica? Sì, sì, la prossima sfilata. Beh, comunque ragazzi complimenti. Grazie. Grazie a tutti.